Un razziatore? Proprio lui, è un razziatore Oh Gianfra, vediamo a chi esce il razziatore Occhio Allora, in teoria dovrebbe... Allora, per essere canonica la cosa dovrebbe uscire a te A chi è uscito? No, 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 non sono io Gianfra, nessuno dei due Sono io, allora? Chi è? Scusatemi No, ma non è detto che sia uno dei due Gianfra No, però, vedi che so io Vedi che so io Che ti è uscito a te? Vedi che so io perché io non mi vedo lì in basso Vedi che so io Sei tu Gianfra, sei il razziatore Gianfra Sì Gianfra non mi viene a prendere Sì Aspetta, ma posso cambiare pure il razziatore? No, 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 sei quello basso Ti fa vedere le varie forme Attenzione Gianfra, ma tu sei un razziatore? Sono un razziatore Io sono quello in basso e a destra Gianfra, mi vedi? Ma ribadisco, dovevi essere tu Però il razziatore Il razziatore? Va Gianfra, ti saluto Ciao Guarda, mi vedi che ti sto salutando Ciao Giuseppe, ti vedo, ti vedo Blazica in 68 Fierissimo Guarda, mi sono bello là dietro Ma posso dire qualcosa io? Ti potevi scrivere Dovevi premere L2 E potevi dire un paio di frasi Ma proprio così Allora Gianfra, il tuo obiettivo È trasformarti quanto prima Da larva a sel prima forma Per fare questo Devi assorbire quelli che sono I superstiti Non noi Gli NPC a terra che piangono Nelle casarelle Quelli devi assorbire all'inizio No, ma questa fianca a me già se n'è andata Ma questa è matta Oh, e dimmi dove Dimmi dove che la venga a pia subito No, no, Gianfra se n'è andata È uscita dalla partita Quindi non siamo più in 7 Siamo in 6 E ora è già più difficile Allora, io ho trovato già una chiave Gianfra Quindi vado subito a posizionarla Per ottenere Ma come? Ah, non è quella di quest'aria Mi scatta ancora un pochino Comunque, vabbè, dai regà Poi si vedrà più fluido successivamente No, vabbè, io sto distruggendo tutto qua Allora, dove sono questi superstiti? Vediamo Questi superstitini Un razziatore? Vabbè, basta Giuseppe, ma che cosa devo fare? Cioè, io prima ero superstita E già capivo un caspito Eccolo! Ascolta Eccolo, finisci Aspetta, aspetta Ok, finisci Lo assorbi Ne assorbi tipo 2 Diventi Cell prima forma Aha, bellissimo Eh sì, dai, facciamo presto Perché voglio essere Ma posso guidare pure con Cell? No, non posso guidare No Vabbè, ma non esageriamo Allora Eccoti qui Eccoti Ma eccoti con chi ce l'hai? No, eccoti L'NPC, insomma Il civile Ah, non so che ce l'avessi con me Tu hai imbazzuto Attenziono Eccolo qui Il nostro Cell Il nostro Cell prima forma Prima trasformazione Allora Mo, in teoria Io apro la mappa qui Dove mi trovo? Ok, nella zona B Proviamo a vedere Nelle altre zone Che... Qual è la situazione Allora Io ho trovato Come mi scatta Allora, una sfera del Drago Aha E... È possibile evocare Sharon Però devi avere tutte le sette sfere del Drago Infatti io sono vicino ad un piedistallo Non la posso posizionare Perché devo avere tutte e sette io Allora Aspetta un secondo Giuseppe, mi puoi dire un attimo in che zona ti trovi? Sono nella zona C Ma sei un folle Ma sei un folle, veramente? Giambra, ma non è vero A che te lo vengo a dire? Scusami, ma sei matto Giambra, comportati bene Perché io qua Se che faccio Ti vengo a prendere poi, eh Una volta che ottengo il potere Change Sì Ma poi veni pure a Pia Tanto vi sfondo tutti Allora, comunque c'è già uno crepato Io non ho fatto nulla È quello lì che forse ha abbandonato la partita Ah Ah, ok Solo lui Ah, sì, sì, sì Ha abbandonato la partita Ma io non ho capito Il vostro loot Io non lo posso distruggere? No, non posso No, Giambra Allora, mi pare di no Tu puoi solo ed esclusivamente venirci a prendere Allora, in teoria Visto che tu mi hai detto Che stai nella zona C Non stai in zona C Ok Oh, c'è qualcuno che mi sta attaccando Pezzo de me Dove sta? Dove sta sto pezzo de me? Dove sta? È questo, praticamente C'è il Change di livello 2 Che sarebbe questo potere Sì, c'è tipo Vegeta E qua, vedi, te sfondo Te sfondo, te sfondo Te sfondo Te sfondo male Vietce, vietce E c'è qua Ma dov'avvi? Gianfranco ragazzi Casatissimo proprio È preso proprio bene Allora, punta Ma tu mannaggia La miseria c'è Non dovevi avere il razziatore Mannaggia Allora, qua se non ho capito male Io posso distruggere le aree Proviamo a distruggere l'area A Vai Vediamo Oh, mannaggia la miseria Gianfranco Ma fatti fatti tuoi È veramente la tua Sì, Gianfranco Stavo nell'area Vai, vai Cos'è si fa i fatti sui Gianfranco Io non lo so Oh, ma Devo lanciarla Sempre l'opportuno Ah no, ok L'ho lanciata Ok Non lo so Perché mi va Così pochi FPS Ragazzi Mi scatticchia un pochino Credo sia Perché lo sto facendo in live Non ne ho idea, onestamente Vi giuro Probabile, sai? Eh, può essere Può essere Cioè mi andava molto, molto, molto fluido Quando l'ho provato la prima volta No, in realtà in partita non è vero Non fluidissimo Nel menu sì, però Nel menu sì Ma che è sta roba? Giuseppe, io Cioè non ce capisco Nulla Eh, fai domanda Io ti riesco a Magari da una mano Non so Cioè tipo che cos'è questo Questo coso qua in alto Questo satellite tipo Che poi Eh, questo Praticamente Da dove Uscirà Probabilmente La super macchina del tempo Solo che da lì ci esce Il momento in cui Vedi Sono piazzate Mancano due chiavi Le chiavi Siamo piazzate Pure quelle Anche le altre due chiavi Allora vuol dire Che poi lì Si evocherà La macchina del tempo E di conseguenza Sarà più difficile Per te poi Vincere Ho capito Allora Come si faceva A vedere la roba del chi? Vediamo un po' Eh, devi premere destra Eccolo Eccone uno Eh, c'è da m*****a Chiappato? No, Gianfranco non si dice Scusami Scusami E non si dice Gianfranco Ah dai, pensavo fosse Un attimo più facile Giocare da razziatore Sai? Eh, pure io all'inizio La prima volta Che l'ho provato Però È fattibile Dai, non troppo difficile Eccolo 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 Uh, sto trovando Della roba Molto interessante Sappilo Chiappato? L'ho fatta? Vediamo un attimo Come si fa a scendere? Aspetta, aspetta Come si fa a scendere? Ah, oddio Come così? No, non abbiamo trovato La chiave di questo Allora Uno ha chiappato Vediamo che cosa vi facciamo Ancora dieci minuti Non l'ho finito Ma sono stupido No, Gianfranco Non l'ho finito Lascialo stare Così non lo farei animare Ma non l'ho finito Mo' divento prima Seconda trasformazione Quanti me No Quanti ce ne vogliono? Eh, ma pure passando il tempo Mi pare Ottiene sempre più forme Mo' non mi ricordo, sai Eccolo Eccolo Trovato Trovato il prossimo Gianfranco mi dispiace Giuseppe, sei tu Ma io sto piazzando la chiave per scappare Sei tu, Giuseppe Vai, vai Avvio super macchina del tempo Ragazzi, scappiamo No, io non posso fare Vai, abbiamo attivato tutto Abbiamo attivato tutto Non posso fare il razziatore perdo Dai, per favore Sì, sì, sì Gianfranco vai Vai, Gianfranco Se perdi con il razziatore è la fine No Io qua sto insieme ad un altro Che praticamente Eccola la macchina del tempo Aspetta, è questa? Fammi vedere Vedi se va a chiappo qua Vi schiatto Vi schiatto Sfera del drago Vai, via sta sfera Via Oh, chi è stato? Oui, c'era uno nascosto Da sfera del drago Se non ho capito male Addirittura Sì, se non ho capito male C'era uno nascosto Tipo da sfera del drago Io l'ho presa Che tipo è uscito fuori Questo qui Vai, 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 vai Ah, va Guarda, vant'è nessuno Oh, Gianfranco di cattiveria Lo so già che la stavi per dire No, no Oh, guarda Ma mi stanno a fare una paliata Raga, mi stanno a fare una paliata Però non mi fate niente Ve lo dico Guarda questo che paliata Che mi stanno a fare Va Chiappato? Guarda questo Chi è quello laggiù? Chi è quello laggiù Vicino alla macchina del tempo? È Joseph Giuseppe, sei tu secondo me No, non sono io Gianfranco, quando vuoi? E dove stai? Che venivo vicino a te Che sei imbazzuto Ti venivo vicino L'ha data, Nance, questo Finisci Come devo fare a finirlo? Viecce Questo sei tu, Giuseppe No, sono io Sei tu Eccoti Eccoti Chiappate sto cannone Eccolo, eccolo Eccolo Vieni Guarda dove scappa C'è il cannone, Giuseppe Magno del tuo cannone Giuseppe No, vado via Eccolo Eccolo Chiampalo Dove stai? Aiuto Eccolo Aiuto Vience 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 Te te magno, Giuseppe No, Gianfranco, lasciami stare Ma piglio la sfere e te magno pure, va No, salvatevi voi No, Gianfranco Mamma mia, Giuseppe Mamma mia Mi hai fatto, Gianfranco Mi hai fatto Cos'è questo posiziona sfere? Mi hai trovato, mannaggia Eh, questo praticamente C'ha C'ha Quattro sfere addosso C'è l'Azuli a terra La tizia Ecco Quanti ce ne stanno ancora? Allora, vai Distruggiamo pure quest'altra zona Vai, distruggiamo questa zona qui Posso? Quella centrale no Perché c'è la super macchina del tempo Ah, non posso Ok Vabbè, dai Distruggiamo la B Poi si vede Ah, la macchina del tempo C'ha tipo il bonus velocità In avvio Aspita Mico, ma quanto ci metti a lanciare sta Kamehameha però? Dai, serve Eh, ci metti parecchio Mi sa Aspita, muoviti Ah, cosa veloce Fra Comunque nella zona delle montagne Ci sta uno che ha cinque sfere del drago Se lo vuoi sapere ti conviene andare a vedere Bravo, Giuseppe, bravo Snicciali tutti Eh, tanto ormai non posso fare più niente Eccolo qui Eccolo Oh, ma c'ho la Kamehameha Bellissimo Mi ma li sfondo Ua, Giuseppe, li sfondo Gianfraero, io Mi avevano rianimato No Ma sei un folle Ma sei un traditore Mi avevano rianimato Poi ti ho mandato su qualcun'altra Gianfra Ma sei un traditore Stavi snicciando gli altri Per scappare tu Non ci credo Sì, Gianfra confesso Ma è uno snicci maledetto, Giuseppe Ma cosa Eh, Gianfra, scusami Non ci credo Scusami, ma l'ho dovuto fare per salvarmi Però non è servito a niente Vabbè Ma sì, ma gli altri sono più forti di me, Gianfra Sta uno che è fortissimo Sì? Sì Questa cos'è? La chiave? Mio Dio, ragazzi, se non ci capisco un caspito Questa, uno sta facendo delle cose assurde Sta scalando Ma che sta a fare? Vediamo qua che faccio Faccio dei teletrasporti, tipo Vediamo se riesce a scappare questo Gianfra, comunque stai perdendo Io te lo dico Eh, lo so che sto perdendo, Giuseppe Lo so Cioè, lo so che non sta andando proprio benissimo Qua Gianfra sta questo Si è nascosto in una maniera devastante Non lo troverai mai Sì Qua Gianfra non lo troverai mai Eh, dimmelo dove sta Dai, dimmelo No, no, Gianfra, non te lo dico Non te lo dico Wow, si è trasformato in Gohan Eccolo, eccolo 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 È uscito allo scoperto No, Gianfra li hai fatti scappare L'ho fatti vincere Noo Mi sono sacrificato per farli scappare Grande Grazie, ragazzi Noo Bellissimo Eh, raga, ma questi come hanno fatto a capire come si gioca? Il video della vita, c'hai T'hanno fatto Wow, ti disintegri Ma come hanno fatto? Il mio sacrificio è valso a qualcosa Missione completata Abbiamo vinto Ma come caspito facevano a sapere questi come si gioca? Non ce voglio credere Anche se comunque a me mi dava missione fallita, Gianfra Io ho perso comunque Non ce voglio credere